se vuoi essere in piedi, se vuoi essere in piedi se vuoi avere ancora dentro, se vuoi passare a noi non si vuoi essere in piedi ora, siamo conviti a creer a fare un paura di un intervino e non si vuoi avere un'unica una situazione pubblica un risultato è stato un motivo che il tuo reposo che le dà nel tema di questo caso perché io mi sono anche riportato un informe che ero in nome sia dal Presidente che nella Direzione di Cultura o sia dal Presidente o sia dal Presidente che è stato anche assolutamente divorzato dal Presidente dagli alleggeratori e dalla Stampa Nazionale che è un diritto uno studente tipo di faccuna di Italia della nostra squadra di carriera di alta di Nazione di Puglietti e saluto per fare il cuore complimenti e che torna in città a Roma in Italia in Italia in Italia in Italia con il Presidente di gestione che è questa è la responsabilità dell'Italia di Mr. Puglietti che ha affrontato la tecnologia che ha affrontato che ha avuto e sicuramente parlare di questo bellissimo del fatto e quindi siamo qui perché vuolevano che la sala consigliare in una cerifonia pubblica si lasciasse il segno di un riconoscimento pubblico che naturalmente facendo l'interprete dei presentimenti dello Storzano dell'intera comunità rivolgo all'Unione Scripturale ciò racconta è una cerimonia molto semplice ma l'abbiamo sentita con la paziente che parlava adesso dopo al nostro Presidente e con un problema naturalmente di una prosecuzione di risultati che non sono più più